nuova nuova puntata per parlare di un tema molto importante parliamo di stagflazione parliamo di una nazione big che fa parte del G20 che ci è entrato ufficialmente quindi secondo me non è proprio un buonissimo presagio per un futuro anche perché le economie non prevedono un anno esaltante a livello di crescita di PIL come è stato alla fine il 2021 almeno per molte nazioni perché per questa che andremo a parlare si parla di recessione tecnica incominciamo subito a dire che cos'è la recessione tecnica ebbene la recessione tecnica è quando per due trimestri consecutivi il PIL va in negativo chiaramente questa recessione tecnica accompagnata a un'alta inflazione e questo paese ha un'alta inflazione visto che ormai ha superiato il 10% quindi addirittura un'inflazione a doppia cifra bene queste due combinazioni fanno sì che si entra in uno stato economico chiamato stagflazione che è una delle peggiore cose che possa succedere in economia ad una nazione perché da una parte c'è un'alta inflazione e dall'altra parte c'è una crescita bassa se non in negativo come in questo caso come in questo caso la stagflazione viene accertata perché non si cresce praticamente quindi diminuisce il PIL rispetto ai trimestri precedenti tra l'altro il primo trimestre invece questa nazione aveva fatto l'1,2% diciamo subito di quale nazione stiamo parlando ebbè stiamo parlando del Brasile ebbene il Brasile che aveva perso già il 4,1% di PIL nel 2020 ed era andata anche abbastanza bene meno della metà dell'Italia ma l'Italia era stata per tre mesi in lockdown il Brasile praticamente c'è stato relativamente visto che poi alla fine ogni regione, ogni città beh governa un po' affatti sui nel senso che poteva mettere un po' le regole e Bolsonaro come si sa era contro il lockdown era quindi per un'economia aperta e il virus dal suo punto di vista si curava semplicemente non facendo niente il popolo si sarebbe immunizzato da solo grazie ai numerevoli contagi ricordiamo che Johnson fu il primo in Inghilterra a cercare questa strada non gli riuscì tanto bene visto che poi lui fu uno dei primi ad essere colpiti e andò addirittura all'ospedale e rischiò anche visto che poi alla fine ne uscì tranquillamente ma dopo essere stato in terapia intensiva quindi rischiò davvero davvero tanto tant'è che da allora e beh in Inghilterra si cambiò in marcia e quindi ci fu praticamente il lockdown e via dicendo quest'anno il Brasile come dicevamo aveva incominciato abbastanza bene con un più 1,2% per poi calare e questa è una brutta prospettiva perché una brutta prospettiva? perché se l'economia mondiale si prevede il ribasso come vediamo dai dati americani dai dati cinesi dove il PIL si pensa che possa diminuire l'anno prossimo ebbene se tanto mi da tanto significa che la situazione del Brasile rischia veramente di essere dura e quando entri nella stagfazione poi difficilmente ci esci perché non puoi aumentare i tassi visto che bloccheresti una eventuale ripresa aumentando i tassi di interesse e viceversa se li diminuisci faresti aumentare ancora di più faresti ancora di più ancora di più l'inflazione che è già altissima quindi una bella storia tra l'altro questa del della praticamente della recessione tecnica in cui si è trovato il Brasile proprio perché ha aumentato di tantissimo i tassi di interesse quindi capite che la coperta è davvero curta non so come se ne usciranno e tra l'altro tra un annetto credo che hanno anche le elezioni quindi sarà veramente un anno difficile tra l'altro uno dei candidati è Lula quindi sarà proprio interessante vedere cosa succederà in Brasile molto dipenderà chiaramente dall'economia ma questo è interessante per tutto il mondo perché perché se una big che fa parte del G20 come il Brasile credo che sia l'ottava economia al mondo comunque siamo lì sicuramente l'economia più grossa del Sud America e quindi è un brutto presagio per tante tante nazioni perché se il PIL continuasse a diminuire ebbene molte economie si troverebbero in difficoltà visto che oggi in pratica hanno dei tassi a zero parliamo dell'Europa parliamo dell'America e il fatto di non poter aumentare i tassi con un'economia che va giù ebbè rischia di far andare fuori controllo l'inflazione quindi anche qui la coperta sarà molto corta grosso danno ebbè lo stanno facendo tutte le nazioni che non aumentano i tassi di interesse o meglio non li hanno aumentati quando l'economia è andata molto molto bene l'Europa dove il PIL medio europeo si attesta per quest'anno credo più del 5% e quindi un bel problema dal mio punto di vista che vedremo nel 2022 e questo ci deve far riflettere sui mercati finanziari perché perché molto probabilmente se l'economia non andrà bene come nel 2020 nonostante tutti prevedano che la pandemia andrà man mano a scomparire ebbene sarà sarà un un problema da affrontare e sui mercati finanziari sicuramente si vedrà un bel po' di volatilità ma soprattutto penso quasi sicuramente ne ho quasi la certezza che non vedremo i rendimenti che abbiamo visto di fatto quest'anno dove l'S&P 500 è sul più 25% senza contare chiaramente il cambio perché se andiamo a contare il cambio andiamo a vedere che i rendimenti per un italiano che ha investito sull'S&P 500 sono davvero molto 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 più alti visto che c'è stato un cambio favorevole quindi davvero rendimenti esagerati direi impressiona a me proprio mi ha impressionato per quanto sono stati alti quest'anno in proporzione chiaramente alla situazione economica che viviamo quindi questa situazione sarà molto 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 interessante e sarà interessante tra l'altro la la riunione del 15 di dicembre quindi mercoledì della Fed che ci dirà cosa vogliono fare e cioè se vogliono diminuire eliminare tapering cioè liquidità immesso nel mercato quando lo vogliono fare e soprattutto quando vogliono aumentare i tassi di interesse in via teorica lo potrebbero fare anche il 15 cioè mercoledì in via pratica la vedo davvero molto difficile passare da un tapering a un aumento di tassi però visto che l'inflazione in America è in continua ascesa siamo arrivati mese su mese a 6,8% massimo dal 1982 quindi stiamo parlando di 40 anni fa erano 40 anni che non si vedeva un rialzo del genere tutto può capitare una cosa sono sicuro e beh penso proprio che mercoledì vedremo un bel po' di volatilità con i mercati ne parlo spesso nel gruppo Facebook cambiare tutto cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza ricordo per chi mi vuole sostenere c'è patreon.com slash cambiare è tutto ragazzi a me dopo questo non resta che ricordarvi che come al solito siete sempre sotto il fuoco nemico a me a me Grazie a tutti.